3, 2, 1, GO! ripeto le regole sono come quelle di rasula 0 7 8 allora il trofeo vale un punto gli idoli valgono mezzo punto i portironi super draft i muri d'acciaio valgono un punto le coppie imbattibili supereroi le stelle valgono due punti i top player 5 e la card invincibile 10 ok ragazzi mio fratello inizierà lui ad aprire però un pacchetto che non vale perché lui ne ha aperti tre ok mio fratello inizia ad aprire ragazzi un pacchetto che non vale aspetta ok ragazzi mio fratello ha aperto il pacchetto che adesso lo vedremo allora ragazzi patrick chic top plus pellegrini mattia perin vi finotto ragazzi c'era carta rara un centro un difensore andiamo a vedere prima quella così di bonucci buono e ragazzi la carta rara è bonucci stella non ci credo nel pacchetto di bonucci bonucci stella ragazzi nel pacchetto di bonucci abbiamo trovato bonucci normale poi bonucci stella nel pacchetto di bonucci raga non ci credo oh mio dio bonucci stella benissimo però questo pacchetto non vale però va bene lo stesso e niente ragazzi ora iniziamo con la partita vera inizierà mio fratello ad aprire col suo primo pacchetto va mio fratello così sono i miei due e lì c'è il suo che ragazzi bonucci stella bellissimo bellissimo cento in difesa raga ok ragazzi abbiamo aperto il pacchetto e andiamo con lui eusebio di francesco plus trinic forse mancante barzagli beretinski manolas carta girata in centrocampista andiamo a vedere schiattarella idolo ok ragazzi mezzo punto per mio fratello ok ragazzi schiattarella idolo non va affatto bene però comunque ci accontentiamo perché abbiamo già trovato bonucci e adesso andrà mio fratello col secondo pacchetto poi dopo andrò io ok no ragazzi un attimo scusa ok ragazzi scusate l'interruzione ma mio fratello non vuole aprire col pacchetto e allora abbiamo deciso di fare così allora bonucci stella vale due punti ok e lui ha due punti e mezzo ragazzi ora passiamo con l'apertura del mio pacchetto andiamo ok comunque io tutti e due di wine li ho i pacchetti scusate ragazzi per l'interruzione mio fratello ci ha ripensato e allora ha voluto rifare il video quindi lui ha mezzo punto andiamo con e memushai plus pioli ragazzi vedo qualcosa paolo cannavaro florenzi sirigu e ragazzi è top player mertens mertens top player ragazzi è mio fratello va 5 punti e mezzo ragazzi non ci credo mertens top player quanto è bello ragazzi bellissimo ok e ora andiamo con il miei pacchetti ragazzi abbiamo già sbancato con questo video bonucci mertens e adesso mancano ancora i miei due pacchetti ragazzi ragazzi andiamo andiamo con i emmello plus maran d'alessandro boie zecchini e puccas ragazzi non c'è neanche la rara da me non c'è neanche la rara ragazzi va bene ragazzi andiamo con l'apertura dell'ultimo pacchetto ha vinto mio fratello tanto per forza potrò l'attente invencibile ora o ha vinto mio fratello ha già vinto lui tanto se già trovi questo vabbè ragazzi tanto secondo me ha già vinto lui però noi ci proviamo ragazzi non abbiamo niente it's all d'erville bonifazzi berardi che tabaldè è un portiere ragazzi andiamo con sorrentino portierone ragazzi sorrentino portierone bellissimo quindi io ho preso un punto e ragazzi resoconto di tutto il video facciamo il resoconto ragazzi allora mio fratello vince con 5 punti e mezzo su di me con lui vince 5 punti e mezzo trovando mertens top player questo trovate io sorrentino questa non vale bonucci e schiattarella idolo vince così e niente ragazzi io spero che il video vi sia piaciuto commentate iscrivetevi ragazzi per questo mertens top player vogliamo almeno e quanti like vogliamo pochi 20 like per questo mertens top player ragazzi per favore arriviamoci vi ringrazio tanto per i 24 iscritti niente questo mertens top player li merita tutti e niente vi ringraziamo ciao belli